Le forze dell'ordine avevano diramato l'allerta. Con l'avvicinarsi delle vacanze, truffatori e ladri sarebbero tornati ad agire intensamente per le strade della provincia, a danno in particolare di persone anziane che vivono da sole e che spesso, proprio durante il periodo festivo, perdono anche quella piccola rete di parenti o amici che potrebbero aiutarle in caso di bisogno. Ed è stata proprio un'amica, nella giornata di ieri, a salvare l'ennesima vittima della truffa del frigorifero a Ravenna. In questi giorni, nelle chat dei gruppi di sicurezza avviati in città, si sosseguono messaggi di avvistamenti di persone sospette e sorprese a girovagare per i quartieri. Ieri, come ha raccontato un utente di Ravenna S.O.S. Sicurezza, a Mezzano, teatro, nelle ultime settimane di numerosi furti, intorno alle 12 si sono presentati alcuni presunti tecnici di ERA. I due malfattori sono riusciti a convincere un'aziana donna a fargli entrare in casa, milantando una perdita d'acqua. Per rendere più verosimile la recita, un complice era in contatto via radio con i truffatori, fornendo loro indicazioni sulla presunta fuoriuscita d'acqua. Con una scusa, i due finti tecnici sono riusciti a convincere la vittima a radunare tutto l'oro presente in casa e a chiuderlo all'interno del frigorifero. È stato a quel punto che è intervenuta un'amica della donna che, dopo aver capito cosa stava realmente accadendo, si è seduta di fronte al frigo e non si è più allontanata. Inutilmente, i truffatori hanno provato a farle abbandonare la stanza, chiedendoli di andare ad aprire i rubinetti del bagno o di altre stanze. La donna è rimasta al suo posto, obbligando i truffatori a non interrompere la recita e impedendogli di fatto di aprire il frigorifero dove erano custoditi tutti gli oggetti preziosi. Di fronte alla caparbietà della donna, i truffatori sono stati costretti ad abbandonare il campo, avvisando la padrona di casa che sarebbero tornati, evento poi non verificatosi perché nel frattempo sono arrivati i carabinieri per raccogliere le testimonianze delle due donne.